via libera l'istituzione di due sottosegretari in giunta nuovo ospedale Asleto 5 sorgerà a Cambiano in memoria di tutte le vittime delle mafie nuova edizione di Consiglio News ben trovati approvata dall'aula in prima lettura la proposta di legge che istituisce due sottosegretari in giunta approvata in prima lettura con la maggioranza assoluta di 26 voti la proposta di legge 240 presentata da Paolo Bongioanni Fratelli d'Italia che istituisce la figura di due sottosegretari all'interno della giunta regionale modificando lo statuto del Piemonte la figura del sottosegretario coadiuva nei suoi compiti il governo regionale tra due mesi sarà necessaria la votazione in seconda lettura come previsto dal capo decimo dello statuto regionale sia arrivati a questo testo emendato in seguito al lavoro d'aula e agli accordi tra maggioranza e opposizione la proposta iniziale prevedeva la possibilità di nominare sino a quattro sottosegretari rendere più efficace ed efficiente la macchina amministrativa della regione Piemonte per andare a creare un miglior collegamento un miglior ascolto col territorio per poi dar le risposte migliori ai piemontesi sottosegretari che aiuteranno il presidente giunta in deleghe specifiche penso ai grandi eventi alle crisi aziendali a settori specifici della sanità ad esempio un modello costoso e un modello diseficiente soprattutto quello non facciamo il bene del consiglio regionale è un'opportunità che noi riteniamo estremamente utile per il piemonte e per i piemontesi perché permetterà al prossimo presidente di potersi avvalere di figure politiche perché giusto che così siano per aiutarlo a codiuvarlo in alcune materie specifiche su un territorio importante e vasto come il nostro. Noi abbiamo passato diverse giornate in aula tenendo la giunta anche di notte per cercare di fare un passo indietro su questo provvedimento che vede l'istituzione di nuove figure in consiglio regionale nella fattispecie i sottosegretari purtroppo la giunta non ha voluto sentire ragione. Sostenere l'attività della giunta e del presidente in questo caso per cercare di dare maggiore supporto tecnico legislativo con specifiche e deleghe ben precise. Sede del nuovo ospedale dell'Aslto 5 la giunta ha scelto Cambiano. La commissione sanità presieduta da Alessandro Stecco ha espresso parere positivo a maggioranza alla proposta di delibera al consiglio regionale sulla rete ospedaliera regionale ed edilizia sanitaria che passerà ora all'esame dell'aula. Il provvedimento presentato dall'assessore alla sanità Luigi Cardi individua come area per l'ospedale unico dell'Aslto 5 quella di Cambiano situata sul terreno demaniale dell'ex parco veicoli inefficienti. L'area presenta diversi punti di forza quali il doppio accesso sia da Santena sia da Trofarello Moncaglieri ed è servita dal trasporto pubblico. Il nuovo ospedale ha spiegato l'assessore Icardi conterrà tutte le specialità, servirà una popolazione di circa 310 mila abitanti e ospiterà complessivamente 434 posti letto. Il costo previsto è di 238 milioni di euro, 202 milioni per l'ospedale e 36 per tecnologie e arredi finanziati da Inail. Legge sui disturbi alimentari. Il consigliere Rossi, Partito Democratico, ha interrogato l'assessore Icardi per conoscere l'applicazione concreta della normativa. A che punto è l'applicazione della legge? Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 20 luglio 2022. Questo l'interrogativo che il consigliere PD Domenico Rossi ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei question time. Secondo Eurispes in Italia oltre 2 milioni di ragazzi fra i 12 e i 25 anni soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Si stima che 200 mila piemontesi soffrono di disturbi alimentari e ogni anno nella nostra regione vengono diagnosticati 260 nuovi casi di anoressia e 450 di bulimia. Il Piemonte ha specificato in aula l'assessore Icardi da oltre un anno e dotato della rete dei servizi regionali per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, organizzazione per la cura ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. A partire dal mese di maggio verrà inoltre contrattualizzato in tutte le asle piemontesi personale dedicato grazie ai fondi ministeriali stanziati per il biennio 2023-2024. Celebrata in aula la giornata in memoria di tutte le vittime delle mafie. Con un minuto di raccoglimento il Consiglio regionale del Piemonte ha celebrato la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie. In Italia e anche in Piemonte molti si sono opposti alla logica delle organizzazioni malavitose e ne sono stati vittime. La memoria di tali sacrifici, fine a se stessa, non serve. A questi morti dobbiamo l'impegno per diffondere la cultura della legalità, del rispetto, della giustizia a partire dalle scuole, ha sottolineato il presidente dell'Assemblea Stefano Allasia. Migliaia di vittime innocenti, rappresentanti delle forze dell'ordine, preti, magistrati, sindacalisti, medici, politici, commercianti, avvocati, semplici cittadini e anche bambini. A ciascuno di questi morti dobbiamo l'impegno. L'impegno a proseguire ciò che loro hanno iniziato per contrastare il fenomeno delinquenziale. La giornata in una prima fase fu lanciata dall'Associazione Libera e da qualche anno ricorre istituzionalmente grazie all'apposita legge del 2017. Si è svolto al campus in Audi di Turino l'evento conclusivo di presentazione di Digicore, l'app per segnalare le violazioni dei diritti dei minori. Uno strumento agile e immediato a disposizione dei ragazzi e delle ragazze piemontesi per segnalare al garante per l'infanzia e l'adolescenza episodi di violazione dei loro diritti. E' l'app Digicore presentata al campus in Audi di Torino. L'app è frutto del progetto Children Digicore finanziato dalla Commissione Europea e realizzato dall'Università di Torino in partnership con il Consiglio regionale del Piemonte. Un percorso di consapevolezza del proprie diritti e anche diciamo di volontà di prendere in mano la propria vita e di chiedere aiuto agli adulti di riferimento. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione dei ragazzi e della cittadinanza in generale e incontri di informazione e formazione dei professionisti del welfare minorile sui diritti dei minori e in particolare sui cosiddetti diritti di partecipazione delle persone di età minore. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!